A me ha colpito molto la gente, le persone che acclama i militari in divisa. Fino a cinque anni fa, fino a dieci anni fa, i militari in divisa che prendevano il potere avevano, quantomeno non avevano il consenso sociale. Questo ci deve fare, ci deve profondamente ripetere. Sono sicuro, sono pronto a mettere la mano sul fuoco che questa scossa gabonese non potrà non avere. Ripercussioni in Guinea-Cortoriale, in Cameroun e in Congo-Brazzaville. Jean-Leonardo Hadd, giornalista e docente universitario nato in Congo-Brazzaville, ragiona sugli ultimi avvenimenti che hanno scosso il continente africano. L'ondata di colpi di Stato che hanno portato i militari al potere in diversi paesi, l'ultimo in ordine del tempo è stato il Gabon. Prima, lo ricordiamo, c'erano stati i golpi in Guinea, in Mali, in Burkina Faso e in Niger. E Toadì, uno dei più raffinati intellettuali di origine africana in Italia, trova in questi avvenimenti un filo conduttore, le tensioni profonde e laceranti che feriscono l'Africa e intravede un destino nuovo, non scontato, di queste crisi. Elezioni truccate, manipolazione della Costituzione per avere il terzo mandato, ma soprattutto due cose che secondo me spiegano l'oggi. La prima, non c'è stata la partecipazione che il popolo africano voleva avere, non c'è stata partecipazione, non c'è stata trasparenza. ma soprattutto le crisi che abbiamo avuto, la crisi del debito, ma anche le varie crisi hanno fatto vedere che l'aspirazione del popolo ad avere risposte dalla politica in termini di beni di prima necessità, scuola, sanità, alloggio, acqua potabile, un'agricoltura che sia sostenuta e occupazione per i giovani, tutto quello che accompagna la vita politica di un paese non è arrivata, non è arrivata con l'indipendenza negli anni 60 e non è arrivata nemmeno con i processi di democratizzazione, che sono secondo me un fallimento, ed è un fallimento prima di tutto africano, insisto su questo. Ancora una volta, in questi decenni, anche negli decenni di apertura democratica, l'elite è ridiventata un'elite offshore, cioè lontana da quelle aspirazioni, da quelle speranze espresse dalla società civile durante i processi di democratizzazione e la mancanza dei beni essenziali è una delle cose che attraversa in maniera strutturale tutti i paesi africani, siano essi a reddito intermedi, a reddito basso, a reddito alto, ovunque hai la fotografia della società coloniale. Il piccolo centro della città, modernizzato, con grattacieli, con albergo, è la stragrande maggioranza dei quartieri dove vive la gente clochardizzata, possiamo chiamarla così, clochardizzata, senza quello che dicevamo prima, senza i beni di prima necessità. Quindi una democrazia che non è riuscita a far uscire i popoli africani dal regno della necessità, così come la chiama Marx, il regno della necessità, i bisogni primari. Mi sto sempre più convincendo che non c'è democrazia in Africa se non ricominceremo da questo. La democrazia come assicurare alle persone i beni di prima necessità. E quindi questo processo di fallimento dei processi di democratizzazione, di frustrazione sociale, di rottura sentimentale tra la popolazione e l'elite offshore, sia essa di tendenza marxista, sia essa aperta all'Occidente o contro l'Occidente, tutte sono accomunate dal fatto che non sono riusciti ad assicurare i beni essenziali alle nostre popolazioni. Questo che cosa ha creato? Ha creato che le nostre società sono diventate società estremamente violente. C'è una violenza strutturale che attraversa e informa, nel senso dà forma alla società africana. Dal poliziotto che va a taglieggiare le bam e il mercato per avere qualche spicciolo, per arrotondare il suo stipendio, fino al ministro, le nostre società sono attraversate da una violenza strutturale. La violenza di Caino contro Abele. E questa facciamo fatica a riconoscerla. È più facile, crea più consenso, additare il padre coloniale, ma penso che dovremo in maniera molto franca e molto seria capire da dove viene questa violenza di Caino contro Abele, dove nelle nostre società le pulsioni di morte rischiano di prendere il posto delle pulsioni di vita in un'Africa che antropologicamente sembra celebrare la vita, porre la vita al centro della propria antropologia. Quindi di nuovo, così come dopo la seconda, dopo la la fine della guerra fredda, le nostre società erano entrate in un caos, da qui sono usciti i processi di democratizzazione. Alla fine, con il fallimento del processo di democratizzazione, le nostre società sono di nuovo entrate in un processo caotico, che è solo all'inizio. che è solo all'inizio. I colpi di Stato a me ha colpito molto la gente, le persone che acclama i militari in divisa. Fino a 5 anni fa, fino a 10 anni fa, i militari in divisa che prendevano il potere avevano, quantomeno non avevano il consenso sociale. Questo ci deve fare, ci deve profondamente riflettere. Aggiungiamo a questo contesto, quindi c'è un caos, c'è un nuovo caos che si è venuto a creare e non dobbiamo avere paura della parola caos, perché possiamo vedere il caos come un momento apocalittico, dove tutto finisce. Possiamo vederlo come il corpo febbricitante di un malato morente, preferisco vederlo, questo caos, come convulsione febbrile di un corpo in crescita. Preferisco vedere questo caos che quindi prelude a un cosmos, a un ordine, a un sogno che il popolo africano in questo momento sta in maniera confusa, in maniera sbagliata, affidandosi a militari, affidandosi a Wagner, affidandosi a chiunque dica che non sta bene la situazione che stiamo vivendo. Quello che sto dicendo sembrerebbe lasciare da parte, tralasciare, non dare peso alle influenze straniere, alla presenza massiccia delle forze straniere nel continente. Ma siccome questa lettura, secondo me, è prevalente in Occidente, è prevalente in Europa, è diventato quasi anche come una specie di luogo comune stereotipato, io pongo l'azione invece su la responsabilità africana e dopo 60 anni non possiamo non porre la questione della responsabilità africana e non negando ovviamente che stiamo vivendo un periodo di grande transizione a livello mondiale e l'Africa è al centro degli appetiti della competizione degli attori grandi, medie e piccole, però proprio perché c'è questa nuova corsa, questo nuovo arembaggio all'Africa, Scramble for Africa, mi sarei aspettato, mi aspetto e vorrei ancora credere che l'Africa abbia un'idea su se stessa, un'idea politica, che i leader africani abbiano ancora un'idea su loro stessi, sui loro popoli, sui loro territori e sui loro risorsi e sulle loro risorse, che diventi poi il punto di discernimento per scegliere chi prendere da fuori come partner oppure no. Vedo in questi colpi di stata ripetizione e penso di sapere che siamo solo all'inizio e parlo della regione che conosco meglio di tutte, la regione dell'Africa centrale, il Gabon è un paese gemello del Congo-Brasavil, abbiamo le stesse etnie, le stesse famiglie da una parte e l'altra, ci conosciamo quasi tutti, siamo pochi, una volta formavamo un solo paese, quindi per la regione che conosco meglio, siamo ancora all'inizio, voi sapete che il Gabon è circondato da paesi come il Camerun, il Congo-Brasavil, la Guinea Equatoriale, dove ciascuno di quei presidenti sa al potere almeno dagli anni Ottanta e sono sicuro, sono pronto a mettere la mano sul fuoco che questa scossa gabonese non potrà non avere ripercussioni in Guinea Equatoriale, in Camerun e in Congo-Brasavil e capiremo davvero da quello che succederà in questi paesi se la nostra tesi del declino della France-Afrique, che tutti noi stiamo cantando in questi giorni, un po' ripetendo pigramente, lì capiremo se davvero la France-Afrique è finita oppure no, perché quei paesi sono quei paesi che facevano parte, nella colonizzazione francese, parte dell'Afrique utile, l'Africa utile, e poi c'era l'Africa inutile, formata da paesi come Mali, Niger, dove all'epoca non c'erano minerali, c'era il cotone da coltivare in Niger, in Burkina Faso e nient'altro, ma quello che succederà in Costa d'Avorio, in Togo e nell'area dell'Africa centrale ci dirà se è finita la France-Afrique oppure no. Già nel Gabon ci sono dei segni che dimostrano che siamo lontani dagli slogan antifrancesi del Niger, siamo lontani dagli slogan prorussi del Niger, del Burkina e del Mali. Non potrebbe esserci un cortocircuito insito proprio nel sistema democratico che noi vogliamo in qualche modo esportare, un sistema non perfetto, ma forse quello che più di tutti preserva le libertà individuali e civili. Tutto sommato però è un percorso che è nato in Europa, che è nato in Occidente, potrebbe non essere diciamo l'unico sistema politico e di governo diciamo utile a tutti i popoli. Per cui esistono altri tipi di sistemi politici, ordinamenti dello Stato alternativi a questo modello che potrebbero funzionare, oppure il percorso diciamo della partecipazione attraverso elezioni multipartitiche, rappresentanza eccetera, è l'unico diciamo auspicabile per il continente africano. Questa è una bellissima domanda. Noi non siamo stati, forse non abbiamo nemmeno avuto il tempo al momento dell'indipendenza di forgiare costituzioni e istituzioni che fossero coerenti compatibili con la nostra antropologia, con la nostra bel tatscham, con la nostra visione del mondo e al momento dell'indipendenza. Non comprendo e non accetto perché all'occasione dei processi di democratizzazione, quindi eravamo già negli anni 90, eravamo già 30 anni dopo all'indipendenza, abbiamo ripetuto esattamente lo stesso errore, gli stessi errori. Qui si pone una questione molto importante perché è vero che per esempio i processi di democratizzazione nei paesi francofoni sono stati anche un po' spinti dalla Francia con la conferenza di Louboutin nel sud della Francia dove Mitterrand ha radunato i capi di stati africani e gli ha detto la pacchia è finita, dovete andare verso dei sistemi più aperti, più democratici, più plurali e così via dicendo. E noi abbiamo obbedito, tra virgolette, ho torto collo per la maggior parte di loro, però i tempi erano questi e anche il Presidente, marcatamente autoritari, sono tornati e hanno detto ecco, dobbiamo essere pluripartitici, dobbiamo aprirci alla società civile e così via dicendo, ma senza quella riflessione di dire ma quali istituzioni e quale Costituzioni sono più adeguati, più coerenti, più capaci di assicurare la partecipazione del nostro popolo, la garanzia che quello che facciamo verrà controllato dalla nostra gente. Ecco perché il difetto, il peccato originale del nimetismo costituzionale e istituzionale va stigmatizzato. Detto questo, ci sono all'interno delle culture africane, dei meccanismi, delle istituzioni che possono garantire pluralismo, che possono garantire libertà, che possano garantire dei meccanismi di partecipazione. Certo che ci sono, certo che ci sono. In due momenti cruciali della storia recente del continente, due personalità, una diversa dall'altra, hanno utilizzato le risorse del nostro sapere basico, possiamo chiamarlo così, per risolvere problemi importanti che erano venuti a crearsi all'interno delle loro società. Con questa premessa, Marco, non dobbiamo tornare all'autenticità africana, è impossibile. La storia è passata, la colonizzazione è passata. Faccio la differenza tra ritorno all'autenticità e ricorso all'autenticità. Noi dobbiamo ricorrere all'autenticità, cioè discernere quali sono gli elementi che oggi ci possono essere utili. Il primo elemento, immaginate un po' il Sudafrica dell'Apartheid, con l'Africa National Congress di Mandela, che era giustamente abitato da un sentimento di rancore, anche di rivincita nei confronti della minoranza bianca. Mandela invece, insieme a Desmond Tutu, pensano che se il paese ha una possibilità di essere un paese stabile, quest'unica possibilità è di mettere insieme bianchi, neri, meticci e indiani, così come era divisa durante l'Apartheid della società sudafricana. E come farlo? Lo fa attraverso la Commissione Giustizia e Riconciliazione. La Commissione Giustizia e Riconciliazione, nel suo funzionamento, non fa che ricorrere alla tradizione Bantu, alla visione Bantu della vita. Io sono perché voi siete, no? E questa circolarità relazionale all'interno dell'antropologia Bantu della vita, per cui la vita è di tutti e noi tutti possiamo averne in abbondanza solo nella misura in cui la condividiamo tra di noi. e il capo villaggio, il capo famiglia, ha come compito principale di essere il guardiano della vita. Rimane capo se assicura la vita per la sua comunità. Non lo può più essere nel momento in cui non è più in grado di garantire per tutti la vita. Che cos'è? Questa è la democrazia in realtà, no? Il capo villaggio, il capo famiglia che ha come suo primo dovere non solo di mantenere l'unità e questa circolarità relazionale, ma di distribuire la vita, possiamo dirla così. E che cos'è distribuire la vita in termini moderni se non assicurare a tutti l'accesso ai bisogni essenziali, di cui abbiamo parlato prima, no? Scuola, sanità, alloggi, acqua potabile, un'agricoltura possibile, una terra da coltivare e così via dicendo. Il successo della Commissione Verità e Riconciliazione ci sta a dimostrare che è possibile ricorrere ad elementi, pilastri della società africana che tra l'altro ancora esistono, coesistono, no? Voi sapete che le società africane vivono soppi il doppio regime di una legittimità moderna, formale, che stava dimostrando di non aver funzionato e una legittimità tradizionale che dando risposte quotidianamente alla gente è rimasta lì e la gente vi fa ricorso ogni volta. Quindi questo qua, Mandela, Desmond Tutu, hanno avuto quindi questa intuizione, questa possibilità di inserire dentro un apparato istituzionale e costituzionale modernissimo di stampo britannico come quello del Sudafrica un elemento di cultura africana che è stato un successo. L'altro che non è stato un successo però che ci fa dire che è possibile ricorrere ad istituti africani è il Tribunale Gacciaccia in Ruanda dopo il genocidio. Quest'idea che sulla collina, tutto quello che avviene sulla collina può essere risolto a condizione che colui che ha subito e colui che ha perpetrato il crimine, i crimine vengono messi insieme e liberano la parola. La parola di chi ha commesso il fatto e la parola di chi ha subito il fatto sono messi insieme e tutti e due con l'intento di perdonarsi e di riconciliarsi una volta riconosciuto ciò che è stato fatto. Il Gacciaccia, tra l'altro il nome non è francese, il nome è del Kinyarwanda che fa riferimento a un'istituzione che esisteva, che era un modo di gestire i conflitti all'interno della comunità. E così, io vi parlo degli esempi del mio mondo Bantu perché io sono un Bantu, ma sono sicuro che esiste nella cultura Bambara, che a volte ci racconta l'ottimo Marco Aime e in altre culture in Africa, delle istituzioni che facevano parte del nostro vivere africano ma che oggi possono darci delle risposte. Quello che è mancato secondo me è il coraggio e anche un po' di immaginazione da parte dell'elite africana. È troppo comodo dire agli occidentali, io ho organizzato le elezioni e quindi la democrazia nel mio paese c'è. L'Occidente manda 4-5 osservatori che dica che si sono svolte bene, che dica che non si sono svolte bene le elezioni, chi vince vince e va avanti. Dobbiamo avere il coraggio invece di utilizzare i saperi basici, di tornare un po' alla nostra cultura indogena in chiave di ricorso, non in chiave di ritorno che non è possibile, però significa che queste culture vanno conosciute, vanno indagate, vanno rispettate, vanno valorizzate. Ogni volta che sento da un'elite colto africana chiamare le gens de la Bruce coloro che vivono in campagna, mi rendo conto appunto della distanza che si è venuto a creare tra un'elite offshore e il popolo. Perché quella Bruce, che si menziona così anche con un certo disprezzo, costituisce il glorioso passato dell'Africa che va rispettato, riconosciuto, valorizzato, indagato e con discernimento, perché parliamo di ricorso e non di ritorno, utilizzato per qualche soluzione dell'oggi. Gian Leonardo, un'ultima domanda. I colpi di Stato che si sono susseguiti hanno creato sconcerto e un vero e proprio terremoto. Dalle tue parole emerge un cauto ottimismo circa gli sviluppi di queste crisi. Da dove nasce questo ottimismo? Quali sono le risorse che tu vedi nel continente africano e che permetteranno ai popoli interessati da queste crisi di trovare una loro strada d'uscita che possa portare a un futuro di benessere migliore e più prospero rispetto ad oggi? La vedo nei giovani e in una consapevolezza fondamentale, secondo me, che sta crescendo nei giovani africani. Lo esprimono in maniera disordinata, in maniera urlata, con degli slogan a volte fuorviati, ma essenzialmente ciò che mi dà speranza è che in quelle rivolte, in quelle manifestazioni di giubilo c'è una consapevolezza che io spero e vorrei tanto che rimanesse una richiesta dell'Africa e degli africani di dire lasciateci fare da soli. E questo, gridato con forza, se sarà raccolta da una classe politica obbediente al proprio popolo, in ascolto del proprio popolo, capace di tradurlo in progetto politico, questo lasciateci fare da soli, siamo capaci, quando si dice Francia vattene, dietro la Francia c'è la Russia, c'è la Cina, c'è la Turchia, c'è il Giappone e questa consapevolezza gridata con costanza e con forza per la prima volta in 60 anni di indipendenza è una cosa che dà speranza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.